Il Covid è tornato, in una settimana i nuovi casi sono saliti al 26,7%, largamente sottostimati perché non c'è più obbligo di quarantena e tamponi. Sì, noi siamo una farmacia aperta 14 ore al giorno dalle 8 alle 22, quindi abbiamo il termometro della popolazione fanese. In quest'ultimo weekend abbiamo veduto tantissimi tamponi per l'autotest Covid perché c'è una grande, grande espansione del Covid in questi ultimi giorni. Molta gente malata di Covid e quindi sta veramente aumentando. E molta influenza, anche con sovrapposizioni. Infatti, questo è il problema principale, la sovrapposizione di sintomi, perché Covid e influenza hanno sintomi sovrapponibili, quindi uno non sa mai se è l'uno o l'altro. Il consiglio quindi è sempre di fare o tamponi, venire qua in farmacia, noi continuiamo sempre a fare i tamponi, oppure di comprare i tamponi autotest e farli in casa. Perché? Perché l'influenza ha dei sintomi sovrapponibili, ma poi il Covid può avere delle complicazioni, soprattutto possiamo poi contagiare i nostri cari che abbiamo in casa. E non sappiamo mai poi i sintomi e le conseguenze che ha il Covid in queste persone immunodepresse, che hanno patologie, quindi bisogna avere sempre grande attenzione. Noi abbiamo delle stime del Ministero che il picco sarà a Natale del Covid. E cosa pensa dei vaccini? I vaccini sono sempre consigliabili, sia dell'influenza, sia del Covid, specialmente per gli over 65. Abbiamo un po' preso sotto gamba adesso i vaccini Covid, però bisogna sempre consigliarli per le persone anziane. L'antinfluenzale ormai è una cosa che facciamo in tanti e quindi è sempre meglio anche farlo. Per chi sta bene, persone diciamo giovani, anche anziani, sono sempre gli integratori che bisogna sempre prevenire. Bisogna avere un sistema immunitario buono e quindi la prevenzione è sempre ottimale farla. In farmacia ci sono tanti integratori, oggi giorni ottimi, riconosciuti, che hanno la loro efficacia, quindi bisogna fare prevenzione.